Ragazzi, abbiamo detto che mi dovete fare parlare, sono avuto una capocciata uno per uno, ok? Allora, io avrei bisogno di questo, grazie. Fate un applauso a Chiara. Allora, innanzitutto, volevo... è una cosa seria? Non senti? Mannaggia, signora mia, che devo fare? E' una cosa seria. Volevo ringraziare l'unità.